Dall'Aquila Bruno Vespa. È stata una giornata in cui momenti di calma assoluta si sono alternati a fasi di tensione. Stamane la città era tranquilla dopo gli incidenti di ieri sera durante i quali i due chioschi sono stati rivelti da Piazza del Duomo per ostruire la parte superiore di Corso Vittorio Emanuele II nel cuore dell'Aquila. Alle 11 la polizia ha tentato di rimuovere i rottami. Gruppi di giovani si sono opposti. Ne è nato uno scontro in cui i dimostranti hanno fatto uso di pietre e la polizia di candelotti lacrimongeni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.